ragazzi un'informazione velocissima ieri non sono riuscito ad andare nei musei vaticani come avevate detto voi perché praticamente una prima data disponibile se non ricordo male male era proprio il 27 quindi era una cosa troppo troppo lontana e quindi non ci siamo potuti andare non ci sono potuti andare per registrarvi proprio quel video però non vi preoccupate che ci andremo sicuramente domani oltretutto volevo anche ricordare vi volevo ricordare ricordare vi volevo dire anche che domani ci sarà una sorpresa perché andremo a proprio in un luogo che io regà adoro andrò in un luogo che adoro ragazzi ma non vi posso spoilerare niente quindi se volete vedere cosa andrò a fare domani vedete aspettate domani domani e lo scoprirete domani